I carabinieri della stazione di Brendola hanno arrestato in flagranza per reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 28enne serbo regolare in Italia, segnalato alla prefettura di Vicenza quale assuntore un 19enne, entrambi residenti a Starego. Entrambi erano stati notati a bordo di una vettura in sosta con fare sospetto. Scatati i controlli, il 28enne è stato trovato in possesso di più di un grammo di cocaina e 5,6 di hashish e la somma di 2.150 euro ritenuta provento dell'attività di spaccio. Le successive perquisizioni nelle abitazioni di entrambi hanno permesso di rinvenire un bilancino di precisione 5,3 grammi di marijuana tritata e ulteriori 1,5 della medesima sostanza stupefacente dal primo mentre nell'abitazione del secondo giovane rinvenuti 2,5 grammi di marijuana detenuta per consumo personale.